è Lucio Caracciolo e la Russia quando io, Seratino Massoni, mi voglio divertire vado ad ascoltare ciò che dice Lucio Caracciolo lo sapete tutti chi è Lucio Caracciolo Lucio Caracciolo è uno dei più noti uno dei più potenti analisti politici nazionali ed internazionali è molto bravo Lucio Caracciolo ma io, cosa volete che vi dica? io, Seratino Massoni, vedete chi sono? sono questo signore qua, vedete? e qua c'è anche la stella di Davide vedete? questa è la mia ultima opera Lucio Caracciolo vedi? beh, vedi Lucio Caracciolo? guarda, la cometa dell'imperatore Lucio Caracciolo è un romanzo storico ambientato tra il 1200 e il 1250 dopo Cristo ai tempi del grande imperatore Federico II di Svevia o Stauffen Altavilla che i contemporanei definivano stupor mundi, stupore del mondo io sono questo qua e so fatto così Lucio Caracciolo quando mi voglio divertire io ascolto le tue parole tu sei invitato a tutti i talk show televisivi sei piazzato molto bene a livello televisivo sei molto famoso a livello nazionale e internazionale ma io mi diverto tanto ascoltando le tue parole cominciai a divertirmi tanto, tanto, tanto subito dopo il 24 febbraio 2022 perché quando cominciò la guerra in Ucraina che tu definivi che era la guerra di Vladimir Putin era Vladimir Putin che voleva la guerra in Ucraina non la federazione russa solo Vladimir Putin tu dicesti in un talk show televisivo dicesti tranquillamente ma questa guerra finisce subito perché i dirigenti della federazione russa acchiappano Vladimir Putin e lo pensionano te lo mettono in qualche dacia ti ricordi Lucio Caracciolo quando dicesti queste parole dopo il 24 febbraio 2022? ma sì prenderanno la dirigenza della federazione russa prenderanno Vladimir Putin che probabilmente ha perso la testa Vladimir Putin e lo pensionano lo mettono in qualche dacia lì tranquillo va bene beh adesso che succede? che adesso ho seguito un video un video di Lucio Caracciolo dove Lucio Caracciolo dice che gli Stati Uniti d'America vogliono salvare la federazione russa non vogliono che crolli la federazione russa a seguito di questa guerra perché se crolla la federazione russa se crolla la federazione russa ci sono dei problemi per gli Stati Uniti d'America perché gli Stati Uniti d'America non avrebbero più nessuna giustificazione a tenere in piedi la Nato la Nato l'alleanza atlantica insomma morale della favola Lucio Caracciolo che è un brillante brillante politologo di fama internazionale dice che gli Stati Uniti relativamente a questa guerra qualche incorso in Ucraina cercano di tutelare un po' la federazione russa di Vladimir Putin non vogliono che crolli quindi cercano anche un po' di contenere il presidente Zelensky che non vada oltre certi limiti che il presidente Zelensky non andrebbe oltre i limiti se non ci fossero tutti gli armamenti dell'alleanza atlantica vabbè allora ma sentiamo alcune parole sentiamo le parole iniziali io le parole le ho ascoltate tutte ma io quello che dice Lucio Caracciolo nella sua interezza ve lo metto come l'ingneri assoluto di questo video così voi potete ascoltare nella loro interezza le parole di Lucio Caracciolo sentiamo un po' ciò che dice Lucio Caracciolo sentiamo nella sua ultima analisi sentiamo l'America vuole salvare la Russia il titolo che proponiamo con questo approfondimento ha del paradossale ma è anche molto reale in che senso la guerra che si combatte in Ucraina è fra le altre una guerra fra Stati Uniti e Russia una guerra indiretta ma sempre più diretta in realtà nella propaganda russa ormai si giustifica l'invasione dell'Ucraina spiegando che non si trattava tanto dell'Ucraina ma a dimostrare agli americani che la Russia ha ancora una grande potenza e vuole dire la sua da parte americana si è visto come anche negli ultimi mesi gli americani si siano impegnati a rafforzare le forze armate ucraine a sostenere l'Ucraina in tutti i modi possibili ma allo stesso tempo a dire all'Ucraina che ci sono delle linee rosse e la linea rossa che gli americani impongono a se stessi e quindi anche all'Ucraina è di spingere la guerra fino al punto da indebolire dissanguare deprimere la Russia ma non disgregarla disgregarla non farla saltare per aria perché perché dal punto di vista americano cioè del rivale oggi più attivo contro la Russia la Russia serve avete capito? avete sentito? avete sentito? Luizio Caracciolo è un brillante politologo è un ottimo salutiero salutiero è molto piacevole ascoltare Luizio Caracciolo Luizio Caracciolo non ha nessun nessun senso della tra G città dell'esistenza adesso ha edulcorato la questione la questione della guerra edulcorata dicendo che gli Stati Uniti d'America non vogliono la sconfitta della federazione russa stanno facendo un'attività di moderazione nei confronti di Zelensky capito? affinché la guerra non vada oltre certi limiti affinché non crolli la federazione russa di Vladimir Putin e le parole io le ho seguite tutte le parole di Luizio Caracciolo tutte 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 ho detto ma prima o poi Luizio Caracciolo dirà qualcosa relativamente al fatto che se la Russia viene messa con le spalle al muro fa ricorso all'armamento nucleare no no non ha detto niente non ha detto niente ha detto ha detto però Luizio Caracciolo che la Russia la federazione russa di Vladimir Putin è la prima potenza nucleare questo l'ha detto sì 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 ascolterete le sue parole ascolterete le sue parole è la prima potenza nucleare per cui per cui ha dato ha dato tutte le spiegazioni per le quali gli Stati Uniti d'America non vogliono che crolli l'Urssio perché so buoni gli Stati Uniti d'America non vogliono che crolli l'Urssio capito l'Urssio deve restare in piedi deve restare in piedi deve restare in piedi però non ha detto la cosa essenziale che se la guerra va oltre certi limiti come ha già precisato il numero due del cremino che è Med ha ricordato al mondo che ci sono pure le armi nucleari e che non si deve chiedare troppo la corda e Vladimir Putin ha ricordato che i primi a usare la bomba atomica sono stati gli americani in Giappone nel 1945 e l'ha detto Vladimir Putin guardate che a questo mondo i primi a usare la bomba atomica in una guerra sono stati gli americani hanno sganciato due pillole atomiche a Hiroshima e Nagasaki e quindi se sono già state usate le armi nucleari potrebbero essere usate di nuovo questo non l'ha detto questo non l'ha detto Lucio Caracciolo perché Lucio Caracciolo è un brillantissimo salutiero 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 non ha alcun senso della tragicità dell'esistenza umana Lucio Caracciolo cosa vuoi che ti dica io caro Lucio Caracciolo quello che tu hai detto nella sua interezza lo metto come linea riassunto di questo video affinché tutti possano ascoltare le tue parole nella loro interezza ma non Lucio Caracciolo gli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno paura che tirando troppo la gorda la federazione russa libera del Mifu Putin e faccia quello che hanno già fatto gli Stati Uniti con il Giappone cioè l'uso delle armi atomiche capito? tu stesso hai detto che la federazione russa la Russia è la prima potenza atomica beh senti senti Lucio Caracciolo ma perché non parli mai dello Stato di Israele? e perché non spieghi non spieghi? io ormai sono un anno che le vado dicendo queste cose perché non spieghi Lucio Caracciolo ai tuoi ascoltatori perché non spieghi nei salotti nei salotti per bene che lo Stato di Israele pur essendo un alleato un alleato potentissimo degli Stati Uniti d'America però lo Stato di Israele si è sempre rifiutato di mandare armi all'Ucraina per cui io Serafino Massoni ho detto che lo Stato di Israele non ha mai mandato non manda e mai manderà armi all'Ucraina ma spiegalo per quale motivo e sì che gli Stati Uniti d'America hanno sempre fatto forte pressione sullo Stato di Israele affinché lo Stato di Israele mandi armi all'Ucraina ma lo stesso Presidente Zelensky ha continuato a ripetere e continua a ripetere che vuole che lo Stato di Israele gli mandi delle armi perché ce ne ha tante di armi ne ha tante 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 e perché ne ha tante 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 lo Stato di Israele perché nello Stato di Israele abitano 7-8 milioni di ebrei i quali i quali non vogliono non vogliono ritornare nei forni crematori come ai tempi della Shoah ti ricordi la Shoah te la ricordi la Shoah Lucio Caracciolo 6 milioni di ebrei mandati prima nei lager poi nelle camere a gas e poi nei forni crematori sono armati fino ai denti lo Stato di Israele ma non ha mai mandato non manda e mai manderà armi l'Ucraina e dillo qualche volta il motivo per il quale lo Stato di Israele non ha mai mandato non manda e mai manderà armi l'Ucraina senti Lucio Caracciolo io ti voglio tanto bene caro sai perché io mi diverto tanto ascoltando le tue fantastiche ipotesi se tu Lucio Caracciolo mi farai pervenire il tuo preciso regabito postale io se a Rafino Massoni ti farò pervenire le mie complete spese una copia della cometa dell'imperatore un romanzo storico ambientato tra il 1200 e il 1250 dopo Cristo ok Lucio Caracciolo guarda tu mi rendi sempre tanto felice perché io quando vi voglio rallegrare ascolto le tue fantastiche ipotesi va bene Lucio Caracciolo ok Lucio Caracciolo a te Lucio Caracciolo e a tutti voi tanti cari saluti da la cometa dell'imperatore grazie a tutti grazie a tutti